Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Payj Gamepower qui siamo in un video di una nuova serie che la chiamerò... Skyblock sarebbe il nome adatto però Skyblock oppure Sky Payj oppure Payj Block potrebbe essere una bella idea, suggeritemi nei commenti come al solito allora questa custom map, cioè questa Skyblock è stata costruita, l'ho costruita io manualmente con le varie isole ho messo tutte le cose nelle ceste, le robe perché volevo provare a costruirla io non cominciavano ad andare di qua per là, sennò consumiamo la fame e la fame è importante perché se si muore, fa un culo allora, l'ho costruita io, quella là come sarebbe dove si vanno a combattre i mob per salire di esperienza perché si farà l'incerning table tutte queste cazzate varie intanto cominciamo ad aprire tutte queste cose, l'ho messe io nelle ceste, vi ricordo e l'ho costruita io, questa mappa, quindi cominciamo due secchi d'acqua e due secchi di là per fare il generatore di cobblestone del legno per costruire qualcosa, del cibo, piccone, torce e bistecche questi sono uovi di zombie che servirebbero per quella là, per la mob, casomai non spawna nessuno va bene, allora, ora dovremmo fare il coso come si chiama, il generatore di cobblestone lo facciamo qua allora, se mi ricordo come si faceva si faceva così uno questo in mezzo, qua ci vuole un altro, questa torce la cacciamo ok allora, qui si metteva l'acqua ok, perfetto e che faccio ora? va bene ok ragazzi, siamo tornati ok, ho fatto un casino per mettere quel blocco lì, va bene cazzo ok, ho l'acqua dovrebbe scendere giù ma scende giù, si scende giù perfetto il blocco di lava qua se togliamo questo dovrei fare l'acqua ok se mi metto qua mi metto col mio piccone ok, perfetto e il generatore l'abbiamo fatto poi possiamo prendere adesso del materiale per andare a rispettare altre isole però prima vorrei andare ad esplorare quella isola quindi cominciamo a a fare cazzate non cerchiamo di cadere giù e andiamo a cercare di prendere quella isola e vediamo che cosa ci sono nelle ceste ancora tre blocchi ho se non ce la facciamo continuiamo con il legno anche se sarebbe un po' sprecato altri blocchi vabbè, uso la cobblestone, dai ok prendiamo vabbè ragazzi mi annoiavo a prendere i blocchi quindi ne ho presi solo cinque e continuiamo con dopo se finiamo questi cinque blocchi ma sicuramente li finiremo continuiamo con il legno anche se è un po' sprecato ma ci sono tanti alberi quindi no problem quanti ne mancano pochi perfetto pochi dopo ci vediamo la ceste ci dovrebbe essere anche un letto mi sa di sì perché questa qua la useremo come casa allora vediamo se possiamo dormire no possiamo dormire soltanto di notte ci sono addirittura due letti la disposizione non l'ho fatta io ma me l'ha me l'ha fatta un mio amico che ho messo il mondo alla LAN ha messo lui le cose nelle ceste e ha messo lui nelle cose ha costruito lui tutto e io gli ho dato una mano con i blocchi da scegliere diciamo allora questi sono i letti questa dovrebbe essere la nostra casuccia dove dormire ok e nelle ceste vediamo che c'è oh ha messo robe in abbondanza però ci conviene lasciarli qua eh sì ci conviene lasciarli qua adesso sai che vi dico sostiamo tutte le robe qua ecco prendiamo questo ok prendiamo del cibo sostiamo anche questo allora ci prendiamo ci facciamo uno due perfetto ci vediamo questi poi uno perfetto uno perfetto allora e questi li posiamo ora andiamo alla nostra crafting table che dovrebbe essere la basta non mi chiediamo andiamo alla nostra crafting table e prima però dobbiamo fare uno due ok e ci facciamo spada in diamond si dai spada in diamond e piccone in ferro intanto poi con altre cose tipo possiamo farcelo anche in pietrisco e possiamo farci altre cose però ci servono questi e mi tengo questi ci vediamo un po' di torce se ci bastano ok diamanti perfetto ora se permetti vorrei prendere un ora non so cosa fare però vorrei prendere del pietrisco con questo piccone dato che siamo più veloci adesso a prendere del pietrisco porca porca madoncia mi sono salvato ok ok prendiamo tanto per il disco va bene uno l'abbiamo perso va bene e andiamo lì 8 blocchi non ci basteranno ma ci accontentiamo poi poi e andiamo a esplorare altre isole perché il mio amico ha costruito tante tante isole cioè una là fuori ci dovrebbe essere non so perché non ho guardato niente tutto tutta sorpresa quindi se ci piaccia ci piaccia questa mappa allora serve altro materiale per la costruzione e dopo andiamo a vedere cosa hanno messo là dentro ma mi sa da quello che ho visto perché mi ha spoilerato qualcosa questo amico che ci ha messo le cose per fare l'esperienza ora andiamo a vedere ok andiamo un po' di paura non mi non mi cado giù ok e siamo arrivati perfetto vediamo cosa c'è qua oh porca l'orgia lasciamo stare che è meglio vorrei adesso se se questa ok questa la cacciamo intanto questo pure e questa pure e trasferiamo tutto nell'altra casa perché adesso vi spiego in questa casa vorrei soltanto tenere i materiali rari tutte le cose praticamente una casa e mentre di là soltanto i crafting e altre cose allorghiamo la cesta perfetto e tolgo la nostra crafting table mettiamo qui ma questo me la tengo ok ok magari il piccone me lo prendo ci potrebbe servire sì ma perfetto allora io mi prenderei del legno sei pezzi di legno per fare una piccola porta lo lasciate qua una porta per andare a a chiudere quei mob e mi farei anche un recinto ci vediamo di questo ok ok mi faccio un recinto che cazzo sto facendo sei vediamo se bastano andiamo però mi ora a questo punto mi farei anche giusti giusti ci abbiamo questo questo perfetto abbiamo anche giusti giusti le robe per farci un'ascia quindi ce la craftiamo andiamo ancora sta durando 11 minuti va bene ancora ok ci dovremmo rifornire di cibo che c'è successo che è successo è andato a fuoco tutto porca l'orgia è andato a fuoco tutto vabbè intanto ci prendiamo la legna dato che ci siamo ce la prendiamo e se ci escono prendiamo anche degli alberi gli alberillini dammi questo mi hanno rispommiato anche il lavoro perché quello che andavo a fare adesso era prendere gli alberi si volevo prendere quella mia scelta ecco posso anche un blocco ok 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 quando se ne vanno le foglie in altre isle ci dovrebbero essere degli alberelli cioè degli alberelli si così ci prendiamo gli alberelli nelle altre isole ma che cazzo è successo ah è esplosio il creeper ora capisco tutto ok ragazzi abbiamo ripreso non me lo penso si hanno ripreso e allora ho cacciato tutte le foglie dagli alberi per ora mi 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 cadono gli alberelli l'ho ripiantati alcuni gli altri l'ho posati là e praticamente ho creato il passaggio ho messo le fence che ho dovuto che ho fatterne altre ora metterò delle torce qui perfetto e uccidiamo i mob por cacca ok allora penso che per questo video possa essere tutto vedo che questa video vi piaccia il commentato e mettete un bel piaccio il basale non vi piace il link trovate sempre in descrizione ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video ciao